Ciao a tutti ragazzi, vi chiedo solo un attimo di pazienza che vi vado a spiegare il video che va a seguire che a volte molti brani non coincidono con le dediche o anche i video non sono con la giusta interpretazione che si vuole dare però sono di tutt'altro argomento però il brano che vado a seguire è un ricordo che porta nel cuore di più mia sorella mia sorella Antonella che mi ha chiesto di pubblicare addirittura su Facebook il video originale però io ho provato a farla mia e spero di accontentarla perché ci tenevo anch'io questa canzone mio padre la domenica quando si alzava attaccava lo stereo l'ascoltava a tutto volume e specialmente diciamo mia sorella e mio fratello se la ricordo perché sono più grandi e se la portano nel cuore ecco io un po' meno però qualcosina ricordo e allora l'ho voluta l'ho voluta portare diciamo come mia interpretazione e spero che mia sorella si faccia bene questa sorpresa e si custodisca tutti i suoi ricordi come le custodiamo noi per i nostri cari nel cuore io indosso una sua maglietta gelosamente e me la porto sempre con me così mio padre mio padre trasmetteva gioia e anche se ho un momento un po' un giorno triste però io ho un sorriso stampato nel mio viso perciò cerco sempre di portare gioia e trasmettere positività vi ringrazio di questo breve introduzione che avete ascoltato e vi lascio alla mia prossima cover nello sfondo e la passione di mio padre ciao ciao a tutti grazie gioia nel cuore ciao a tutti 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 a tutti ciao a tutti 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 a tutti